Allora, abbracciatemi, dai ragazzi, dai, 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 Schopero, 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 Schopero Lattre? 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 Glattre? Lattre? 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 No! Vergogna, vergogna, vergogna! Vergogna, vergogna! Vergogna, vergogna! Oggi mi ha mandato i bordi qua, mi ha mandato i bordi. Piano! 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 Potem-o! Veldoni a te! Lascia stare! Lascia stare! Calma voi se pe siano mal bothi! Eh no, eh no, eh no! Oh no, eh no! Ah, ti chiamo! V 추orra! Vai dai dai dai! ... Oltano ti? Laschalo! Puglialo! Laschalo! Laschalo! lascialo! è il nome d'esco! lascialo! lascialo! non vuoi dire! guarda! perché ci vuoi con te lo vieni? perché c'è gente che deve mangiare! c'è una persona là qui non essere umano sotto un camion! io lo posso fare! c'è gente! c'è gente! c'è gente! ma starlo che sei! fai lo telefono! fai lo telefono! non mi passi! lascialo! 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 tu fai il bravo tu! fai il bravo! ti stai per noi! ragazzi indietro! indietro! bravi! bravi! ma che coraggio avete! che coraggio avete! ma cosa li state andando bene? perché stiamo manifestando quei nostri diritti! guardate coi vostri occhi! questa è una coscienza vostra! si può pigliare sempre ordini senza mai guardare! ma pensare con una propria testa! guardare cosa! perché una persona si arriva a buttare sotto un camion! pensate! non passi! 9 mesi! 9 mesi! non passi! non passi! lascia! non passi! non passi! si! o increased la quadra понадotate! incontrivi! 3 mesi! priri un problema! resti condannati! la politica! avalia! fino a poi! Noi mi tagliano il vostro stipendio, ma non lo fate! Noi mi tagliano il vostro stipendio, ma non lo fate! Non lo fate! Bravo, è così! Così! Boh! Non mi mandate fuori dallo strato di casa, venite voi sempre qua o qua. Deve do andare al tribunale a tutti i soggetti sono. Non c'è ancora di chi, eh? Mafiosi! Siete dei mafiosi! Vergogna! 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 Vergogna!